Musica Musica Con Viaggi Molise facciamo tappa a Capracotta per un progetto davvero particolare promosso da WECOP in collaborazione con Terra Nostra e Campagna Amica. Siamo all'agriturismo Guado Cannavina per questo progetto, come ha ben detto, molto particolare. Sostanzialmente si tratta di portare il pesce di Termoli in Alto Molise. Scopriamo in che modo. Musica Roberto Cappelli è il coordinatore regionale di WECOP, una cooperativa che promuove questo progetto davvero innovativo. Si chiama Tra Mare e Monti. Siamo a Capracotta, sulle montagne, ma chiaramente c'è anche il mare. Spiegaci un po' questo progetto. Sì, il progetto nasce grazie ai finanziamenti messi a disposizione dal MIPAF in un progetto che riguarda appunto il progetto nazionale triennale per la pesca e l'acquacultura. WECOP è un'associazione di assistenza, promozione e tutela del movimento cooperativo e quindi associate a questa associazione sono le cooperative del territorio che operano in qualunque settore, anche in quello della pesca. Il progetto vuole promuovere l'abbinamento di prodotti agricoli di qualità con i frutti del mare, con i prodotti del mare. E' importante quindi tenere in considerazione questi abbinamenti proprio per la cultura marina e per la cultura del territorio agricolo. Sono piatti che al giorno d'oggi molti consumatori non sono più abituati ad usare, a consumare, perché non rientrano più nella cultura moderna. L'obiettivo quindi è quello di informare le persone che questa sera saranno qui con noi, però oltre a questo aspetto di informazione e ludico, perché la serata sarà anche ludica, ci sono altri obiettivi che sono quelli di promuovere e ampliare le offerte gastronomiche degli agriturismi che questa sera saranno qui con noi, anche per cercare di sviluppare il mercato per le aziende ittiche. Parliamo in concreto di questo progetto. Cosa succede? In che modo il pesce dal mare arriva alla montagna e chi lo porta? Assolutamente. Il pesce è stato pescato questa mattina da un pescatore aderente associato alla OP San Basso, che è una cooperativa di Termoli. È stato portato direttamente qui in Agriturismo e insieme allo chef di Agrichef e di Terra Nostra, quindi aderente a Terra Nostra, è preparato e servito con degli abbinamenti particolari e nei piatti quindi troverete sia il pesce a miglio zero che i prodotti della terra a chilometro zero. Innanzitutto c'è riscontro da parte degli agriturismi, da parte delle cooperative che dovrebbero partecipare a questo progetto? Sì, a partecipare al progetto sono i clienti abituali di questo agriturismo e altri agriturismi che fanno parte del circuito di Terra Nostra. A loro poi verrà proposto un questionario dove cercheremo di capire il gradimento dell'evento, se sono stati informati sulla qualità organolettiche e sulla qualità del pesce, che di solito viene definito pesce povero, ma ha delle qualità eccezionali e abbinato poi ad altri prodotti riesce a offrire delle varianti interessanti. L'obiettivo finale di questo progetto? L'obiettivo finale è quello di promuovere il consumo del pesce e quindi di promuoverlo anche all'interno degli agriturismi che partecipano questa sera a questo evento e quindi ampliare la loro offerta gastronomica, quindi in pratica promuovere l'inserimento nei loro menu di piatti che contengano anche il pesce da offrire una volta a settimana, una volta al mese, quando gli agriturismi meglio credono e quindi creare poi dei rapporti commerciali tra la cooperativa dei pescatori e gli agriturismi interessati. Aniello Ascolese, direttore regionale di Coldiretti, c'è questo progetto di UECOP finanziato dal Ministero, aderisce anche la Coldiretti attraverso il circuito Terra Nostra e Campagna Amica, chiaramente quando si tratta di unire mari e monti il suo ruolo lo può giocare anche appunto questo circuito Campagna Amica. Certo, anche qui in Molise finalmente riusciamo a creare questa sinergia tra il mare, quindi il pescato, che è il frutto del lavoro, tra virgolette, come se fosse un lavoro agricolo fatto sul mare, e le aree interne, quindi i prodotti interni di cui è ricca il nostro territorio. Ecco, quindi noi siamo quasi gli ultimi a fare questo sposalizio, questo fidanzamento e riteniamo che sia una strada giusta per quanto riguarda proprio anche la popolazione, quindi anche la gente che frequenta i nostri agriturismi, gli agriturismi del Molise, che possono incontrare anche questa pietanza, cioè il pesce che molto spesso si pensa che si debba mangiare soltanto d'estate o soltanto vicino alle zone marine, e invece no, noi vorremmo far sì che cresca una cultura tra i consumatori che il pesce c'è, è un pesce sicuro, è un pesce delle nostre coste, quindi a chilometro o meglio a miglio zero, e il pesce può raggiungere anche le aree interne quotidianamente, quindi garantendo la freschezza, la qualità e dando anche un'opportunità, credo, di variare un menu con un prodotto che sicuramente è un prodotto salutare. Parliamo del circuito Terra Nostra, di cosa si occupa, qual è il suo ruolo? Terra Nostra è appunto l'associazione che raggruppa gli agriturismi di Campagna Amica, quindi sotto l'ombrello di Campagna Amica Terra Nostra svolge un ruolo molto importante che è quello di organizzare all'interno del settore agricolo le imprese, io dico le imprese quelle che hanno sposato il concetto della multifunzionalità e quindi si sono offerte ai consumatori, quindi hanno aperto le loro aziende ai consumatori. L'agriturismo è un momento essenziale per quanto riguarda la crescita anche dell'agricoltura e lo sviluppo dei territori. Molto spesso le aziende, grazie alla multifunzionalità, grazie all'agriturismo, sono riuscite a rimanere sui territori, quindi a creare condizioni di reddito e di redditività per poter continuare a svolgere anche la funzione agricola. La funzione agricola, lo diciamo ai cittadini, non è solo quella di produrre, ma è quella anche di manutenere il territorio rurale, perché quando chiude un'azienda agricola purtroppo è una perdita per l'intera collettività, per le comunità rurali che vivono sui nostri territori, specie per quanto riguarda le aree interne. Quindi gli agriturismi sono quella rete di imprese che, torno a dire, hanno intuito la possibilità di fare reddito in una comunanza con i consumatori. Quindi sono l'avamposto di una nuova agricoltura che sta crescendo. Ora con questa collaborazione con WECOP si aprono anche nuove prospettive, appunto perché grazie a questo progetto si coinvolge direttamente il mare. WECOP da una parte, ma anche impresa pesca, perché Condiretti associa anche le imprese della pesca. Quindi WECOP, che è la nostra associazione che raggruppa tutte le cooperative del settore agricolo, ma non solo, anche cooperative sociali, cooperative edilizie. Quindi WECOP è una centrale cooperativa vera e propria, che quindi svolge una funzione che va al di là del discorso agricolo. WECOP naturalmente è interessata anche per le cooperative della pesca, che qui esistono sull'Adriatico, esistono anche nella nostra provincia di Campobasso, quindi sulla fascia adriatica. Siamo, ripeto, questa stasera è un'iniziativa che vuole gettare le basi per un percorso nuovo, un percorso che possa essere sempre più strutturato. Siamo con Basso Cannarsa, presidente di OP San Basso, la società cooperativa che materialmente ha pescato il pesce a termoli e l'ha portato a Capracotta. Sì, il pesce è stato pescato dai pescherecci dei soci della cooperativa OP San Basso per partecipare a questo evento organizzato da WECOP insieme a Terra Nostra con l'obiettivo appunto di promuovere il prodotto locale dell'Adriatico anche all'interno del Molise, visto che insomma questa cosa è poco abituale. Quale specie di pesce avete portato qui in Alto Molise e cosa contate di portare prossimamente? Noi cerchiamo sempre di promuovere il pesce di stagione a secondi periodi dell'anno. In questo periodo in particolare siamo nel dopofermo, abbiamo portato trigli, abbiamo portato cicale, abbiamo portato seppie, sogliole, polpi che sono le specie che in questo periodo si pescano di più. In generale che aspettative riponete in questo progetto? Noi puntiamo sempre, crediamo in questi progetti appunto che hanno lo scopo di far conoscere anche alle popolazioni che abitano lontano dal mare questi prodotti che sono prodotti che si riescono a trovare a prezzi abbastanza contenuti e sono prodotti assolutamente salutari. Quindi l'obiettivo è questo. L'inverno sono questi, questo è il pescato, invece per l'estate cosa proponete? L'inverno, adesso siamo in autunno, appunto questo è il prodotto che noi lo chiamiamo il pesce nuovo, il pesce che sta crescendo nel dopofermo, adesso già è diventato di taglia adulta e quindi si trova in abbondanza. E poi secondo le stagioni, noi nel periodo primaverile abbiamo per lo più scambi, merluzzi, totani, polpi, anche se poi magari non è che scompaiono le altre specie, si prendono di più alcune specie in determinate stagioni che altre. Quanti pescatori coinvolge questa società cooperativa, l'OP San Basso? Noi a Termoli siamo una trentina di pescherecci che fanno lo strascio, oltre a altre attività, e nell'OP ce ne sono circa metà attualmente. Termina così la prima parte della puntata di Viaggi in Molise che abbiamo dedicato al progetto Mare e Monti di scena a Capracotta, all'agriturismo Guado-Cannavina, ci salutiamo ricordandovi che trasmettiamo questa puntata su Telemolise, canale 11, Telemolise 2, canale 12, e sul nostro canale tematico Molise Mio, canale 212. Potete seguirci anche in Abruzzo sul canale 96, o a Roma e nel resto del Lazio, dove trasmettiamo sul canale 880. Tutte le puntate potete rivederle anche sul nostro sito web, vi ricordo l'indirizzo www.telemolise.com. Grazie per la visione!